Ormai, democrazia! Il grido di la Costituzione non è un gioco e questo è solo l'inizio, i manifestanti hanno promesso battaglia a oltranza fino a che non verranno ritirati in Parlamento i controversi emendamenti promossi dal partito di maggioranza e dal primo ministro Viktor Orban, accusato anche dall'estero di minare la democrazia e l'equilibrio dei poteri dello Stato.